Ed ora la pallavolo ultimo giorno oggi della fase di prelazione della campagna abbonamenti della Leo Shoes Modena Volley una parentesi chiusa con numeri da record perché fin qui in una fase ancora piena di incertezze sono già circa 2200 le tessere sottoscritte dai tifosi giallo-blu un dato straordinario se si tiene conto che ancora non c'è la sicurezza che il pubblico possa essere presente sulle tribune del Palapanini da domani si apre l'ultima fase quella della vendita libera degli abbonamenti con uno sconto del 10% inferiore a quello del 30 prima e del 20 poi riservato ai vecchi abbonati la stagione del volley inizierà il 13 settembre con le semifinali della Supercoppa italiana Modena giocherà l'andata a Perugia il ritorno in calendario domenica 20 al Palapanini